Trovano il ladro in cortile e lo fanno arrestare. E' accaduto sabato sera in una casa isolata a Tavernelle di Serrungarina, dove intorno alla mezzanotte un uomo che vive con il fratello e gli anziani genitori ha sentito il proprio cane abbaiare. Preoccupato si è affacciato alla finestra e ha capito che il fiuto del suo amico a quattro zampe non lo aveva tradito. Tra gli arbusti c'era qualcuno che stava cercando di nascondersi. Dopo aver acceso le luci gli ha intimato di andarsene, ma il contrario, lo sconosciuto è entrato nel giardino dell'abitazione. Il padrone di casa non si è perso d'animo, ha chiamato il 112 e insieme al fratello è sceso per andare a controllare. Il malvivente era proprio lì, in cortile, che stava rovistando all'interno di una loro autovettura. A quel punto gli hanno urlato nuovamente di andarsene, lo sconosciuto ha deciso di scappare a piedi. I due fratelli si sono messi all'inseguimento, restando in modo prudente a distanza dal malintenzionato, ma in continuo contatto telefonico con la centrale dei carabinieri. I militari di Saltara, in servizio nei dintorni, in pochi minuti hanno incrociato il fuggitivo, lo hanno bloccato e immobilizzato. Si tratta di un francese di 32 anni, già autore di altri furti. Nelle tasche aveva pochi oggetti asportati dall'auto, che sono stati restituiti subito ai legittimi proprietari. Condotto in caserma, l'uomo senza documenti e senza fissa dimora, con fatica, non parlando una parola in italiano, è stato prima identificato e poi tratto in arresto per furto in abitazione.